Con i termini linfoma si indica un tumore che interessa il sistema linfatico e i linfociti, cellule responsabili della risposta immunitaria. È difficile fare prevenzione sui linfomi, ma il vantaggio di queste malattie è che possono essere curate molto bene. Queste sono le malattie del sangue più frequenti con oltre 40 diagnosi al giorno, praticamente due all'ora, e complessivamente circa 15.000 pazienti diagnosticati di queste malattie ogni anno. La percentuale di guariti di una partologia linfomatosa però è molto alta, per questo è importante aumentare la consapevolezza su queste malattie nella popolazione. Il 15 settembre facciamo luce e coloriamo di verde il nostro municipio, perché continuare a parlare di queste patologie è fondamentale per sostenere i pazienti e le loro famiglie dal punto di vista clinico e psicologico. Per cui facciamo luce anche sul linfoma.